Buongiorno, Beer & Food Attraction 2022, siamo allo stand di CIS con Antonello Mucci, CEO dell'azienda. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, siamo al primo giorno della fiera, quindi si è già creato qualche aspettativa, qualche speranza per i prossimi giorni? Diciamo che come primo giorno, come prime ore del primo giorno non sono malvagie, quindi siamo contenti e fiduciosi che la fiera abbia un esito positivo, come l'ha sempre avuto. Bene, bene, sì, c'è una grande affluenza, possiamo dire. Sì, possiamo dire di sì, contro le aspettative probabilmente anche. Menomale. Allora, invece come si è chiuso il 2021, come si è aperto il 2022, quindi quali sono anche lì le aspettative e i progetti per il nuovo anno? Dunque, il 2021 è stato un anno sicuramente positivo per la nostra azienda, abbiamo chiuso bene, bene l'anno, con delle buone prospettive anche per il 2022, che è partito bene anche questo, nonostante tutto, nonostante le situazioni che conosciamo tutti benissimo. Nel nostro piccolo faremo di tutto per cercare che anche il 2022 sia un anno positivo. Beh, avendo questi due anni alle spalle non sarebbe stato sicuramente semplice, però ce l'avete fatta, insomma? Sì, ce l'abbiamo fatta con tanti sacrifici, come hanno fatto tutte le aziende che sono sicuramente qui in fiera, e con tanta voglia anche di partire, di ripartire in una maniera concreta e positiva. Sì, di ricominciare e di ritornare finalmente alla normalità con calma, ma forse ce la stiamo facendo. Speriamo, speriamo di sì, io sono fiducioso, voglio crederci, assolutamente sì. Benissimo, allora grazie. Grazie a voi.